al bellissimo titone andò anche peggio di didone se così si può dire il suo primo errore fu quello di alzarsi troppo presto al mattino d'altra parte faceva il pescatore e svegliarsi di buon'ora era per lui un'abitudine quotidiana siccome tra le die dell'olimpo la più mattiniera era ovviamente eos la dia di aurora accade che un bel giorno ti vedo oggi ti vedo domani la bella eos si innamorò di titone le die all'epoca erano non meno spregiudicate dei loro colleghi maschi eos pertanto senza starci troppo a pensare rapì titone e se lo portò in etiopia a titone la dia partorì memmone armato di bronzo re degli etiopi e il sire e mazione la loro felicità sarebbe stata completa se entrambi fossero appartenuti alla stessa razza purtroppo per titone però lei è un regno immortale lui un povero pescatore che seppure bellissimo era comunque destinato a morire eos allora pensò bene di rivolgersi in alto e si avviò a chiedere a zeus dalle nere nubi che egli diventasse immortale potesse vivere in eterno e zeus acconsentì con un cenno del capo ed esaudì il suo desiderio in verità zeus cercò di sconsigliarla in tutti i modi pensaci bene o figlia di perione le disse sei davvero sicura che quello che desideri sia l'immortalità di titone tu lo sai che una volta concesso una grazia non te ne potrò più concedere una seconda e lì rispose di sì dimenticandosi di chiedere insieme all'immortalità anche l'eterna giovinezza l'adorabile aurora non pensò nella sua mente di chiedere anche la giovinezza e di tener lontana la rovinosa vecchiaia in verità fino a quando egli restò giovane godette il suo amore presso le correnti dell'oceano ai confini della terra ma quando vide le prime ciocche bianche scende lì giù dal capo e dal nobile mento del suo letto si astenne insomma la concubina di titone antico come amava chiamarla dante non appena lo vide imbecchiare lo mollò di brutto e d'altra parte come dalle torto titone ormai almeno come amante non voleva più nulla e a che serve vivere si chiedeva min mermo poeta greco del settimo secolo avanti cristo quando non si è più capaci di fare l'amore mi sia data la morte quando la gioia segreta tenerissima dei corpi allacciati nel letto non sarà più alla mia portata ah come presto appassisce nel duomo e nella donna il fiore della giovinezza una nube d'angoscia senza tregua o tenebra l'anima allorquando si profila l'odiosa vecchiaia a qualità bisogna considerarsi vecchi in proposito mi mermo non ha dubbi destino di morte raggiungimi a 60 anni prima della malattia e prima della buia insonnia in verità 60 anni a me sembrano pochini perlomeno per quanto mi riguarda pazienza per l'insonnia dico io ma ci sono tante altre gioie nella vita per le quali vale la pena di vivere al cui confronto il sesso diventa un optional in particolar modo quando con la terza età la sensibilità la sensibilità dell'uomo si modifica titone comunque aveva da un bel pezzo superato il secolo allorché eos lo rinchiuse definitivamente in una cella sotterranea per poi passagli il cibo attraverso un buco praticato nella porta in effetti lì non sopportava più la vista e soprattutto l'odore titone infatti col passare degli anni oltre a essersi accartocciato e raggrinzito emanava anche un terribile puzzo di cadavere insomma era diventato una schifezza il disgraziato a questo punto avrebbe voluto morire riposare in pace come tutti gli altri esseri umani ma inutilmente aveva cercato di por fine ai suoi giochi ai suoi giorni gettandosi giù da una rupe dandosi fuoco o infilandosi in una fossa piena di serpenti non c'era stato nulla da fare si era ferito bustionato era stato morso dai rettili ma non era mai morto per forza era immortale invecchiare non morire mai questa fu la condanna che zeus vuole infliggere a titone una condanna più amara della stessa